Vino d'annata e due batterie 40 euro con ma... SOM SPECIAL 12 rose rosse e una radiolina 63 euro online con... SOM SPECIAL Con gli edoro giallo e auricolari stereo 250 euro con... SOM SPECIAL E fai così! È finita! Abbiamo vinto! Essere in due posti contemporaneamente non ha prezzo. Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c'è... SOM SPECIAL SOM SPECIAL